Amici! Sì? Ma dov'è finito Polpetta? Il concerto sta per iniziare! Non lo so, dobbiamo ritroffarlo! Il concerto sta per iniziare! Oh Polpetta, sarà in cucina a mangiare come al solito! Va bene, lo chiamo Polpetta, sei ancora in cucina, beccano! Arrivo amici, eccomi! Oh, avevo ancora fame di spaghetti e Polpetta! Quanto vuol dire pelicolo? Eccomi qui! Che guardano il spettacolo! E cosa canteranno stasera? Ok, adesso il concerto può iniziare! Siete pronti? Nella cantina di un palazzo, nei tutti i gatti, di senza parlo, organizzare una riunione, Poter dormire sulle polontrone! Vai, vai, vai! Quarantaquattro catti, mi ha pensato a prendi due! Potate un'occhio batti, mi ha pensato a prendi due! Le bocchie di reati, mi ha pensato a prendi due! Le cose ditte, mi ha pensato a prendi due! E con la bellissima rivista dei quarantaquattro catti del mese di ottobre, e con Polpetta, il nuovissimo personaggio, e il palco dei Baffi Gats, di Alice! Ciao, ciao!